Lo storico abbeveratoio risalente al XVIII secolo, meglio conosciuto come la Santuzza, è stato finalmente ricollocato in via 24 Maggio nel quartiere Borgo Pignatelli a Gela. Il riposizionamento rientra nei lavori di qualificazione della zona che hanno previsto uno stanziamento di quasi 600.000 euro per valorizzare un'area del centro storico tra le più antiche. Siamo contenti che i lavori del Borgo Pignatelli si avviano alla conclusione, che anche questa cura, questo particolare viene ripristinato. È un ricordo caro a tutti noi, è un ricordo caro alla città di Gela, lo ha fra l'altro voluto fortemente con un impegno personale anche l'assessore Casano e quindi devo dire che quando le cose si seguono con cura e con attenzione si realizzano. Credo che sia una riqualificazione di un quartiere che rappresenta parte della storia della nostra città. Un abbeveratoio da cui il momento attuale però non sgorga acqua. Tutto un unico giorno no, per adesso abbiamo già completato questo, vediamo di ripristinare anche la funzionalità, però credo che il segno sia importante nell'ambito di un quartiere ripeto riqualificato. Vedremo di ripristinare anche questo, intanto è illuminato, è valorizzato per quello che è una parte veramente molto bella della nostra città che merita di essere vissuta. Le città hanno un'anima e questo è un quartiere che ha un'anima. I lavori di riqualificazione del Borgo Pimentali quando si concluderanno definitivamente? Sono ormai quasi alla fine, siamo nella parte più alta, abbiamo anche ultimato l'ultima parte dell'ultimo lavoro, credo che sarà questione di giorni ormai, ma è facile vedere che sono quasi conclusi. parte amministrativa, anche questa è finita, in settimana presenteremo altri lavori e passeremo in altre zone della città per dei lavori che, ripeto, la città aspetta da tanto tempo, uno per tutti e anche via Rossini.